Salve, mi chiamo Barbara Cinelli, sono italiana e vengo dall'Australia. Mi trovo nella clinica dentistica di Dens in Mumbai, dove ho fatto un gran lavoro e ci sono avuti solo due viaggi. Ho fatto tutta la riabilitazione della mia bocca, ho fatto tre impianti, tre vitalizzazioni, tanto lavoro in due viaggi. Il lavoro è fantastico, sono super happy, veramente contenta, la clinica è super professionale, pulita, i ragazzi sono educati, i medici sono veramente professionali. Ringrazio il dottor Fahad, il dottor DJ, il dottor Ash, non mi ricordo tutti i nomi, il dottoressa Ankita e tutti i ragazzi, Anand e tutti i ragazzi sono fantastici, sono veramente felice. Avevo un budget veramente basso, ma comunque sono riuscita a fare miracoli e adesso mi trovo una bocca nuova e veramente la raccomando tantissimo. Sono in gamba, educati, molto professionali, puliti, lo ripeto, perché sono straordinari e sono veramente molto felice. Quindi raccomando, qui ci sono persone che vengono da tutto il mondo, si trovano benissimo, sono soddisfatti, la clinica è molto conosciuta, i ragazzi faranno di tutto per rendervi felici, come io sono molto felice. Io vi ringrazio tantissimo e ho apprezzato molto la vostra pazienza e veramente parlerò di voi a tutti quanti, a tutto il mondo. Thank you.